Stai ascoltando ABC Marketing & News, il podcast di InfoMyWeb dedicato a professionisti e aziende che vogliono sfruttare il marketing per far decollare il proprio business. Dopo aver lanciato un test durato un anno con i creator e i podcaster più seguiti, Spotify lancia due nuove funzionalità interattive a tutti gli utenti a livello globale. Si tratta di Q&A, domande risposte, e poll, sondaggi, che ricordano le stesse funzioni rese disponibili anche sulle stories di Instagram. Il funzionamento è molto semplice. Attraverso la piattaforma Anchor, acquisita da Spotify nel 2019 e che permette di distribuire il proprio podcast sui principali servizi di audio streaming in pochi clic, sarà possibile pubblicare una domanda e ricevere le risposte direttamente dagli ascoltatori, i quali potranno interagire attraverso le app di Android o iOS su iPhone. Le risposte potranno essere lette dall'amministratore del podcast e, all'occorrenza, potranno essere rese pubbliche. Molto simili anche i sondaggi. È sufficiente creare le domande ed un elenco di risposte che potranno essere singole o multiple e, in tempo reale, verranno mostrate le percentuali di risposte. Vuoi provare? Se stai ascoltando questo episodio su Spotify, vai nel dettaglio. Troverai una domanda e un sondaggio a cui partecipare. Queste possibilità di interazione con gli ascoltatori si vanno ad aggiungere con quella di ricevere i messaggi vocali per poterli inserire direttamente nell'episodio. Tale funzione però attualmente è disponibile solo sull'app Anchor e di conseguenza poco utilizzata. Interagire con il proprio pubblico permette di ricevere un feedback utile, ad esempio per idee e spunti per la creazione di nuovi episodi o creare quel senso di community che facilmente si crea con altri social network. Avere una comunità di persone interessate agli argomenti che tratti è un'ottima strategia marketing. Newsletter, blog, video, social network e ora anche i podcast, anche se apparentemente non sembra, sono dei canali comunicativi bidirezionali dove poter interagire con il proprio pubblico che, con la giusta strategia, può diventare cliente dei tuoi prodotti o servizi. E se vuoi creare un podcast per il tuo business, contattaci! Grazie per aver ascoltato questo episodio. Se vuoi inviarci commenti, suggerimenti, per ricevere maggiori informazioni o consulenze per migliorare il tuo marketing, scrivici a podcast.infomyweb.com. Ci trovi su Facebook, Instagram e LinkedIn. Visita il nostro sito www.infomyweb.com dove troverai numerosi suggerimenti per il tuo marketing e tutti i nostri servizi. O vieni a trovarci presso la nostra sede a Biterbo. Ti aspettiamo!